Il progetto Foco 2020 a Rollon partecipa per la quinta volta a questa importante manifestazione ed è una partecipazione all'insegna della continuità e dell'innovazione. Continuità, intesa la nostra presenza nella supply chain di questo importante settore industriale, innovazione, intesa come la standardizzazione di alcune soluzioni customizzate sviluppate nel corso degli anni. Il kit 10K30 è stato sviluppato da Rollon negli ultimi tre anni. L'obiettivo era quello di fornire al mercato una soluzione estremamente affidabile e commerciale che consentisse l'apertura e la chiusura del vetro del cammino, migliorandone le caratteristiche di combustione. La novità di quest'anno è che il kit 10K30 passa dall'essere una soluzione a 100% custom ad una soluzione a catalogo, con tutti quelli che sono i benefici dal punto di vista commerciale che ne derivano. La seconda famiglia prodotto che Rollon presenta a progetto Foco sono le guide telescopiche destinate all'estrazione dei monoblocchi pellet o legno. La richiesta del mercato è quella di andare sempre di più verso dei prodotti prestanti che garantiscono una rigidità e una scorrevolezza del movimento del tutto soddisfacenti. L'obiettivo del nostro gruppo è quello di una continua crescita nel settore dei cammini con l'introduzione di nuovi prodotti anche per i prossimi anni. Grazie a tutti!